Importante passo in avanti per l'ingresso dello Stato nello stabilimento siderurgico di Taranto. Infatti la Commissione europea ha dato il via libera all'acquisizione del controllo congiunto di AM Investco da parte di Invitalia ArcelorMittal. La transazione è stata esaminata sotto la procedura semplificata. Precedentemente AM Investco era controllata soltanto da ArcelorMittal. Intanto l'ILVA in amministrazione straordinaria ha posto il problema dei circa 1.800 dipendenti di cui 1.600 sono a Taranto. Il problema è stato segnalato al Ministero per lo Sviluppo Economico. Tra le ipotesi che circolano c'è un rilancio dell'incentivo per l'esodo volontario e agevolato. La stabilizzazione dell'offerta attuale che è di 85.000 euro lordi ma anche il travaso del personale in nuove attività. I 1.800 sono tutti in cassa integrazione straordinaria da più di due anni non essendo stati selezionati per l'assunzione da ArcelorMittal Italia. Alcuni di loro attraverso i sindacati metalmeccanici hanno però impugnato l'esclusione ed hanno vinto i ricorsi con il giudice del lavoro che ha ordinato ad ArcelorMittal Italia la loro assunzione.